Ciao a tutti e benvenuti su Piscopodram, il canale dove si parla di batteria e dintorni. Se vogliamo fare una bella cosa, andate a prendere il rullante, due chiavette e accordiamo insieme il rullante. Vediamo un po' cosa esce fuori. Questa metodologia funziona bene su una pelle ambassador oppure una emperor. Meglio su un ambassador. Allora, ovviamente io l'ho già fatto, come nei migliori programmi televisivi, mi sono portato avanti. Alla pelle ristorante cosa ho fatto? Ho dato due giri di chiavetta per ogni tirante. Quindi voi cosa fate? Prendete la bacchetta, la cordiera la tirate giù, mettete la bacchetta così, senza rompere le cordiere che sono molto delicate, la mia è già difettosa. Comunque, io devo dare in pratica un reset al mio rullante. Smollate tutto, va bene? Poi con le dita, va bene? E date una prima stretta, va bene? Poi prendete la vostra bellissima chiavetta e date due giri completi per ogni tirante. Quindi mettendo la chiavetta qui fate mezzo, uno, uno e mezzo, due. Andate di là, va bene? Mezzo, uno, uno e mezzo, due. E così via per tutte, per tutti i tiranti. Due giri completi per ogni tirante. Va bene? Basta. La risonante non la toccherete mai più. Fatto questo, capovolgete, prendete la pelle nuova, dai fatelo, facciamolo insieme. Ho dovuto un po' stravolgere i piani, ma ho trovato un modo semplice per farvelo capire. Perché a me manca un tirante qui, perché purtroppo questa batteria ne ha passate tantissime, e ha passato diversi traslochi, veramente questa batteria è veramente la mia seconda moglie. Comunque, e quindi il rullante purtroppo non è stato conservato al meglio, è una master premium, quindi una master premium tenuta bene tutta, ma il rullante ha avuto subito delle cadute, e quindi è già tanto secqui, diciamolo. Ok? È un ottimo rullante in betulla. Sta bene? Comunque, allora, prendete la pelle nuova. Questa era la mia pelle vecchia, come vedete era... era vecchia. Prendete la pelle, ovviamente, la prima stretta la date sempre con le dita, va bene? Poi schiacciate, prendete la chiavetta, iniziate a stringere tutti i tiranti, e poi, va bene, gli fate un po' di respirazione, un po' di massaggio cardiaco, va bene? Perché si deve assistare, si deve scaldare prima di essere accordato, va bene? Quindi, mi raccomando, non ci andate con le nocche, va bene? Con il pugno, con il gomito, perché altrimenti ci lascerete il solto. No! Andateci sempre con il palmo della mano, va bene? Una volta che l'avete un po' riscaldata, che l'avete scollata, che l'avete fatta bene aderire al bordo, rifate un altro giro con... ai tiranti, va bene? Io qui non ce lo faccio finita. Ok, partiamo con questa metodologia, con questo trucco. La prima cosa da fare è un giro completo ad ogni tirante, quindi, prendete la chiavetta, oppure due, c'è anche chi usa due chiavette. Prendete la chiavetta, gli date la prima stretta con le dita, come sempre, quando vedete che stringe, prendete la chiavetta e fate mezzo e uno. Prendete da quella a fianco, va bene? Di qua, mezzo e uno. Poi di qua, mezzo e uno. Di qua, mezzo e uno. E provate a suonare, e vi dirà già un suono. E con quel suono lì, molti ci registrano anche dei brani, nel senso, comunque, è un suono, rimane sempre un suono. Ora cosa fate? Avete fatto? Faccio mucciaccia. Fatto? Ok? Ci siamo? Magari mettete in pausa. Molto bene. Ora che l'hai fatto, dai un giro completo al tirante alle ore 12, quello davanti a voi, in pratica. Va bene? Date un giro, quindi prendete la chiavetta, mettete lì, mezzo, uno. Poi andate alla sua sinistra, gli date mezzo giro, 0,5, tac, mezzo giro e vi fermate. Andate a quella alla sua destra, mezzo giro e vi fermate. Dopo aver fatto questa cosa, in pratica, cosa succede? La pelle tende a tirarsi, a schiacciarsi più qui e tende a tirarsi più, a tirarsi su di qua. A questi, io qui non ho questo, come ho già detto per la quinta volta, forse. Queste qui dovete togliere un giro e mezzo, quindi meno uno e mezzo di qua e meno uno e mezzo di là. Mezzo, uno, uno e cinque. Mezzo, uno e uno e cinque. Va bene? E questo lo mollate. Arrivati a questo punto, otterrete un suono. Va bene? Otterrete un suono. Questo l'avete mollato, quindi ora siamo in pratica uguali. Siamo nella stessa situazione. Queste quattro determineranno la tonalità del vostro rullante. Quindi se vi mettete a stringere queste, va bene, questa, questa. Se vi mettete a giocare con queste, mi raccomando se girate di mezzo questo, girate di mezzo quest'altro e così via. Oppure di mezzo questo, comunque muovetevi sempre in paralleli. Va bene? Questi quattro di lato, che in pratica la vostra cordiera passerà sotto, va bene, determineranno la tonalità del rullante. Queste tre invece si preoccuperanno soltanto di darvi delle armoniche in più a rullante. Quindi, cosa voglio dirvi? Che una volta che avete scelto una tonalità al vostro rullante, quindi più chiaro o più scuro con queste quattro, lasciate com'è. Questo l'avete smollato, avete queste due. Suonate e ottenete un suono. Questa però lasciata sempre smollata. Qui vedrete in controluce delle rughe. E vanno bene, deve essere così. Voglio ancora più noteate, voglio ancora più armoniche. Continuate con questi. Quindi, che ne so, aggiungete un altro mezzo a questo, e un altro mezzo a questo. Se volete quelle armoniche da funky, il rullante è bello squillante, non fate altro che aggiungere un giro a questa. Provatevi. Oppure mezzo giro. Fate prima mezzo giro e suonate. Non vi piace? Aggiungete l'altro mezzo giro. Suonate. Per dirvi, una volta, sembra complicato ragazzi, se prendete confidenza con questa metodologia, secondo me potete andare ovunque. E una volta che ce l'avete ben chiara la struttura, in pratica queste tre in cima non le toccherete più. Queste quattro le toccherete soltanto se volete un rullante più chiaro o un rullante più scuro. Queste qui le toccherete soltanto se volete aggiungere dell'armonica rullante. Basta! Magari segnatevi quanti giri avete fatto, perché magari poi dopo le prime volte vi farete i disegnini piano piano. Sembra complicato ragazzi, però se entrate in questa metodologia poi in pratica andate ovunque. Ok, quindi ricapitolando, queste le dimenticate, queste tre, queste quattro per la tonalità del rullante, più chiara, più scura, queste qui, queste tre per aggiungere delle armoniche in più, soprattutto questa, va bene? Questa qui la lasciate sempre smollata in pratica. Se iniziate a aggiungere questa, sentite il rullante che acquisisce delle armoniche. Sperimentate, fatemi sapere come vi trovate con questa metodologia e al prossimo video ragazzi. Ciao!